Il culto è difficilissimo da spiegare, ho detto pure è un po' come l'onore, non si spiega, così è, quello è. Per me il culto è chiamare a raccolta tutti i maestri che hanno accompagnato la mia vita artistica, e anche la mia vita di uomo che attraversa le vie che ci sono date a disposizione nel nostro percorso. È un modo molto antico di evocare emozioni, sentimenti, sentimenti estremi. La tecnica è una tecnica che si acquisisce attraverso l'esperienza, che si ruba osservando i grandi maestri. È un po' come la tradizione orale, è tutto orale, quindi è tutto affidato esclusivamente a questa voglia di essere spugne, di raccogliere sentimenti, emozioni. Oggi il culto ha un valore anche sul pieno sociale, è un modo anche per rendere grande, rendere epico, rendere forte. Un'idea, un concetto, un avvenimento. Insomma, quello che vi auguro è di poter vedere un culto in teatro.